A partire dal 1 maggio è iniziata la campagna per la raccolta delle firme sul modello CUD per destinare l'8 per 1000 del gettito IRPEF alla Chiesa Cattolica. Al momento della dichiarazione è possibile specificare la propria volontà nel destinare l'8 per 1000 delle tasse versate e anche chi non ha l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi può decidere con la propria firma a chi assegnare i fondi predetti. I fondi derivanti dall'8 per 1000 assegnati alla Chiesa Cattolica vengono impegnati per tre finalità. Le esigenze di culto e pastorale, il sostegno al clero diocesano e interventi caritativi in Italia e all'estero. Vediamo solo alcuni esempi di come anche nella nostra diocesi i proventi dell'8 per 1000 sono stati impiegati per le esigenze di culto. Sono il parco della cattedrale Anselmo Galvani e oltre che parco sono anche rettore di questa cattedrale da 23 anni. Conosco bene tutti i problemi che questa Chiesa ha non solo come Chiesa della parrocchia ma soprattutto come Chiesa madre di tutte le Chiese e quindi è la Chiesa del Vescovo. Qui si celebrano le grandi solennità con l'intervento di Monsierre Vescovo. e naturalmente qui tanti sono i lavori che si richiedono dal suono delle campane all'illuminazione fatta bene della cattedrale, al riscaldamento ed ecco che qui ho avuto anche un contributo da parte dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica per risolvere i problemi che ci sono e per questo sono anche molto grato e tutta la popolazione è grata perché abbiamo avuto la possibilità di fare tante belle cose al servizio dei fedeli. Sono Don Giovanni Cordani, il paroco di Rivergaro, da oltre 8 anni. stiamo realizzando e completando questo complesso parrocchiale che comprende un centro dotato di salone, cucina, bar con annesso un campo sportivo polivalente, si può giocare a calcetto e contemporaneamente anche a pallavolo. Abbiamo realizzato questo complesso e lo stiamo ultimando anche con il contributo dell'8 per 1000 e molto anche con le offerte dei parrocchiani e di altri enti. Il centro parrocchiale è a servizio della comunità e anche del paese, quindi accoglie le famiglie, accoglie gli anziani, i giovani e i ragazzi e poi anche sarà centro di attività culturali perché essendo dotato di un salone si possono svolgere manifestazioni musicali, incontri, congressi e altre attività simili. Sono il parroco di Carmiano e di Cassano, Cassano amministratore, parroco quindi di queste due piccole comunità che hanno pochi abitanti però hanno anche loro le loro esigenze. Le persone che abitano in questi piccoli paesi amano ancora frequentare le loro chiese, è difficile farle andare nelle comunità più grandi anche perché sono un po' lontane e quindi amano frequentare la loro chiesa e quindi tengono anche alla loro chiesa per cui la vogliono sempre bella e accogliente. Grazie all'otto per mille si riesce a fare qualche cosa per mantenere in piedi queste chiese. È stato fatto il rifacimento della scala del campanile, sempre con il contributo dell'otto per mille, un campanile che è abbastanza alto e quindi è stata anche una spesa molto considerevole. Ci troviamo in questo momento nel deposito degli archivi della diocesi di Piacenza Bobbio, in particolare della diocesi di Piacenza. Questo luogo è il luogo in cui si deposita la memoria di una diocesi, una memoria lunghissima, plurisecolare, organica almeno a partire dal concilio di Trento, quindi dalla fine del XVI secolo. E questi archivi hanno bisogno di una continua operazione di conservazione, ma soprattutto di riordino e di inventariazione, ovvero rendere questa memoria fruibile sia per la diocesi stessa sia eventualmente per gli studiosi. E questo è il percorso che si sta effettuando negli ultimi anni, in realtà è un percorso di antica data, ma in questi ultimi anni è subito una particolare intensificazione. Ovvero si è provveduto a riorganizzare alcune serie di documenti che non erano conservate in modo adeguato alla possibilità di consultazione e per certi archivi si è effettuato un riordino e si sta effettuando, perché è un lavoro lunghissimo, un lavoro di anni, un lavoro molto impegnativo, si sta effettuando un riordino generalizzato. Tutto ciò naturalmente è un lavoro estremamente complesso, estremamente oneroso ed estremamente importante. Complesso perché richiede competenze particolari, oneroso perché richiede tempi molto lunghi di specialisti e in quanto tale è un lavoro costoso, un lavoro costoso che non sarebbe possibile realizzare senza il sostegno di fondi quali soprattutto quelli provenienti dall'otto per mille, che qui trova una destinazione di carattere culturale importantissimo, e un lavoro necessario perché perdere la propria memoria significa camminare con un grosso buio alle spalle. Io credo che l'otto per mille sia una scelta che esige una maturità nei cristiani ed è un atto di fiducia quindi della Chiesa, secondo me, nella maturità dei cristiani. Credo che sia stata una scommessa difficile perché il dire io contribuisco alla Chiesa e non è la cosa di cui vedo immediatamente il risultato, vuol dire che uno ha un senso della Chiesa alto, abbastanza alto. Credo che sia un po' così. Insomma, se riuscissimo a vivere davvero con questo senso di fiducia e di maturità, credo che contribuirebbe, non sarebbe soltanto e come non deve essere soltanto una questione economica. Io credo che la Chiesa dovrebbe essere sempre così in tutte le cose che fa, non dovrebbe avere di mira che cos'è più conveniente dal punto di vista economico, cosa rende di più economicamente, ma che cosa rende di più per la maturazione della fede, perché è in vista della fede anche l'otto per mille. Quindi credo che possa funzionare così, dovrebbe funzionare così e penso possa funzionare così.